Musica Questa cooperativa si chiama SCS, Società Costruzione Segnalettica. Realizziamo il segnale partendo dalla lamiera, quindi dal lamierato. Facciamo sia il semilavorato che l'applicazione della pellicola. Abbiamo clienti un po' in tutta Italia e anche all'estero. Walker Buyout è praticamente il termine che si usa per definire una società cooperativa che viene costituita dai dipendenti che precedentemente erano una società fallita. Musica Visto che c'era questo fallimento che non potevamo comunque, perdevamo tutti il lavoro. Noi eravamo tutti a casa, tutti disoccupati. Quindi abbiamo detto ci mettiamo in gioco, proviamo investendo la nostra Naspi in capitale sociale. Potete capire il calvario di tutti gli operai. Eravamo in 300, adesso siamo in 14 e adesso siamo autonomi e riusciamo a fare produzione di cartelli dal principio alla fine. Musica La sfida è che siamo padroni di noi stessi, adesso le scelte le facciamo noi. Sappiamo a 360 gradi cosa succede in azienda, quando ci sono degli errori cerchiamo di rimediare e quando le cose vanno bene siamo soddisfatti e siamo contenti. La differenza è che adesso si viene a lavorare con una leggerezza che non si può neanche immaginare perché essendo gestita da noi possiamo fare meglio le cose per riuscire a far crescere l'attività. Tutte le volte che vengo qui in azienda, che vengo quasi tutti i giorni, a volte il sabato e a volte anche la domenica, è raro che non trovi qualcuno qui che presidia l'azienda. Quindi c'è da parte di tutti i soci un impegno oltre che quello lavorativo. Ma è un'affezione che c'è a questa azienda qui. Musica 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 Musica